Le bellissime cose che abbiamo sentito è il nuovo dell'enogatronomia. Il signor Tarchini ha capito con grande intelligenza che la ristorazione è arrivata a un punto e oggi bisogna cambiare. Oggi bisogna dare le pragole al tempo delle pragole, bisogna dare i cibi e i frutti di questa terra stupenda che è il Mendrisiotto del Ticino e quindi fare una cucina attraverso i prodotti del territorio ma soprattutto una serietà di cucina che purtroppo in un periodo storico delle vacche grasse si era andata depauperando. Noi vogliamo riprendere la vera cucina ticinese, lombarda del territorio e soprattutto in questo resort che sarà aperto a giugno, a fine maggio, portare il fascino della cucina leggera colorata mediterranea.